L'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia si prepara al voto anticipato per un nuovo Parlamento, fissato per il 5 giugno. La tensione resta alta. Nei giorni scorsi ci sono state proteste di piazza contro la decisione del Presidente di graziare tutti i politici indagati per vari reati, compresi quelli coinvolti nello scandalo delle intercettazioni. Credo che la mia scelta sia nell'interesse dello Stato, si difende il Presidente. Chi ritiene di essere stato leso nei propri diritti e vuole provare la propria innocenza in un'aula di tribunale può farlo. Lo invito personalmente a presentare una richiesta scritta per cancellare la decisione che lo riguarda. Le elezioni politiche dovrebbero porre fine alla lunga crisi politica istituzionale, scoppiata lo scorso anno dopo lo scandalo delle intercettazioni. Grazie. Grazie.